amici di calciamercato.com ben ritrovati in nuovo appuntamento con indiscrezione oggi parliamo di radu dragusi in difensore del genoa che è diventato un obiettivo di mercato di tante squadre perché tante squadre in questa sessione di gennaio stanno cercando dei riforzi proprio in difesa ci aveva pensato l'atrante ci aveva pensato il milan adesso però sull'ex difensore della juve c'è soprattutto interesse di due squadre il napoli in italia il tottenham in inghilterra la richiesta che fa gene superiore 30 milioni di euro il tottenham è arrivato a proporne 22 23 quindi c'è ancora una distanza importante di circa 10 milioni tra offerta e richiesta ma tottenham può rilanciare anche perché sa che c'è il napoli che ci sta provando napoli che proporrebbe invece uno scambio con ostigard ex difensore proprio del genoa napoli l'aveva acquistato dal genoa più un conguaglio economico importante c'è questo testa testa per napoli e tottenham bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire chi delle due la spunterà con il tottenham però che ha da parte sua una disponibilità economica molto molto alta tottenham che ha pescato spesso in italia per quanto riguarda il suo mercato nell'ultima estate ha preso vicario ha preso prima udoge entrambi stanno facendo molto bene e potrebbe tornare a farlo grazie a tutti